In apertura la cronaca, due agrigentini sono stati arrestati ieri sera dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile diretti dal capitano Giuseppe Asti. Si tratta di Pasqualino Lombardo di 58 anni e Salvatore Lombardo di 22, zio e nipote entrambi di agrigento. I due sono stati bloccati in via Gioeni con addosso un sacchetto contenente 250 grammi di acici, droga che era stata acquistata precedentemente a Palermo. Ieri pomeriggio a Ravanuse i carabinieri della locale stazione hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di una 65enne pensionata del luogo. Il provvedimento è stato emesso dalla Corte d'Appello di Caltanissette in quanto la donna deve spiare un anno e quattro mesi di reclusione perché è riconosciuta colpevole con pena definitiva di una ricettazione in concorso commessa nella stessa Ravanusa nel 2001. La donna è stata trasferita nella propria abitazione in regime di domiciliari. Hanno desistito dal loro intento all'arrivo dei carabinieri di Ravanusa e due soggetti sorpresi durante le prime ore dell'alba nell'atto di perpetrare il furto di un'autovettura di proprietà di un ravanusano. I carabinieri chiamati a intervenire in una via periferica della città di Ravanusa, notati i due ladri, darsi a precipitosa fuga, si sono posti al loro inseguimento. Uno dei due, Giovanni Gaetano Spallina, di 21 anni, è stato bloccato ed arrestato in flagranza di reato, mentre il secondo, un minore di origine rumena, è stato successivamente identificato e deferito a piede libero alla competente autorità giudiziaria. E a Campobello di Licata, invece, i carabinieri ieri hanno eseguito un'ordinanza di carcerazione messa agli inizi del mese a carico di un pregiudicato di Campobello. Si tratta di Luigi Viola, 47 anni, che deve scontare la pena di quasi sette mesi di reclusione in quanto colpevole di una serie di furti commessi in concorso con altri soggetti a sommatino nel maggio del 2002 ai danni di una abitazione. E' arrivata ieri la condanna per l'ex governatore della Sicilia, Raffaele Lombardo. Il procedimento che si è celebrato, il processo che si è celebrato a Catania, con il rito abbreviato, prendeva le mosse dall'inchiesta Iblis. Sentiamo. E' arrivata nel pomeriggio di ieri la sentenza nei confronti dell'ex governatore della Sicilia, Raffaele Lombardo, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e voto di scambio nell'ambito dell'inchiesta Ibis al Tribunale di Catania. Il processo a carico di Lombardo si è chiuso con la condanna a sei anni ed otto mesi per l'ex presidente della regione, che è stato riconosciuto colpevole del reato di concorso esterno in associazione mafiosa, mentre è stato assolto dall'accusa di voto di scambio. Il processo a carico di Lombardo si è svolto con il rito abbreviato per l'ex governatore disposto anche a un anno di libertà vigilata e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Rinvia giudizio invece per il fratello Angelo Lombardo, ex deputato nazionale del Movimento per l'Autonomia, sempre nell'ambito dell'inchiesta Iblis da cui tutto è partito. La procura di Catania aveva chiesto per Raffaele Lombardo la condanna a dieci anni di reclusione. L'ex presidente era presente in aula al momento della lettura della sentenza accanto alla moglie Rina Grosso. L'epilogo naturale di questo processo, ma l'aspettavo, queste le prime parole di Lombardo. Il nostro impianto accusatorio ha retto queste invece le dichiarazioni del procuratore Salvi. La procura unita ha fatto un lavoro importante. È avvenuto un fatto storico. Si ha per la prima volta la condanna per concorso esterno in associazione mafiosa per un presidente della regione siciliana. Non accettava la separazione e così accecato dalla rabbia ha preso un cacciavite e è andato nel supermercato dove lavora la moglie minacciandole di farle del male. È accaduto ieri ad Agrigento dove poliziotti diretti dal commissario capo Alfredo Cesarano hanno denunciato a piede libero un quarantenne di favara per minacce gravi, danneggiamento e porto abusivo di oggetti atti a offendere. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, il quarantenne sarebbe piombato nel supermercato dove lavora la moglie brandendo un cacciavite e minacciando di fare del male alla donna se non avesse deciso di tornare a vivere con lui. I poliziotti hanno rintracciato l'uomo e dopo una breve perquisizione nella sua auto hanno trovato anche il cacciavite. Il favarese è stato denunciato a piede libero alla procura della Repubblica di Agrigento. Un gelese di 57 anni è stato denunciato dalla polizia di Vittoria con l'accusa di porto di armi e oggetti atti a offendere. È stato bloccato da una volante in piazza Berlinguer nei pressi del Mercato dei Fiori insieme ad un 44enne del luogo a bordo di un SUV alla vista dei poliziotti. I due hanno tentato di accelerare. Fermati non hanno saputo fornire una giustificazione circa alla loro presenza sul posto. All'interno del baule della vettura sono stati rinvenuti due bastoni, un coltello con una lama di 8 centimetri terminante a punta. Tutto il materiale è stato sequestrato. Ammonta ad oltre 12 mila Euro il valore dei computer. 24 rubati la notte scorsa all'istituto comprensivo Quasimodo a Villaseta. Da Agrigento i carabinieri stanno indagando dopo la denuncia del dirigente scolastico. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori ladri per entrare avrebbero scassinato una finestra. Ennesimo furto di cavi elettrici e cavi di rame è avvenuto a Grotte. Sono stati rubati 400 metri di cavi in rame che costituivano il tracciato elettrico incontrato a Altavilla. Grotte il furto ha provocato un danno economico di circa 3 mila Euro oltre a vari disagi alle abitazioni della zona che non hanno ricevuto più energia elettrica. Episodio di violenza ieri sera al quadrivio spinasanta da Agrigento il parroco della chiesa del Sacro Cuore Don Mario Sorci è stato aggredito e picchiato per essere intervenuto in difesa del proprietario di un bar della zona Don Mario Sorci era nel suo ufficio quando ha sentito provenire da sotto la sua finestra trambusto e urla poiché sotto l'oratorio si è subito precipitato per capire cosa stesse accadendo ma ha visto che la rissa non era nell'oratorio ma nella decente bar è entrato e ha visto il proprietario a terra circondato da giovani tra i 20 e i 30 anni sicuramente ubriachi che lo prendevano a calci e pugni si è messo nel mezzo per difendere l'uomo gridando chiamate i carabinieri quando è stato stavolta colpito con alcuni pugni pochi minuti di follia e poi gli aggressori sono scappati via sul posto è intervenuta un'ambulanza che ha trasferito all'ospedale di Agrigento il malcapitato proprietario del bar. Adesso la politica la manovra bis sarà sul tavolo della giunta regionale tra venerdì e lunedì ad assicurare l'assessore regionale dell'economia Luca Bianchi la manovra è quasi definita stiamo lavorando agli ultimi dettagli ha detto ridurremo la spesa e concentreremo le risorse per dare fiat aglienti e pagare gli stipendi al momento Bianchi preferisce non quantificare la manovra perché prima il dipartimento economia aspetta le ultime indicazioni da Roma sull'operazione di copertura dei residui attivi e intanto si susseguono i colloqui informali con il commissario dello Stato Carmelo Aronica per blindare il testo che sarà depositato all'Ars la prossima settimana. L'ex PM Antonino Ingroia, il nuovo commissario della provincia di Trapano, il governatore della Sicilia Rosario Crocetta ha firmato il decreto di nomina. Mandiamo Ingroia nella terra di Matteo Messina Denaro ha detto Crocetta, il presidente della regione ha anche parlato della riforma delle province che è in discussione all'Ars. Ieri il governo intanto ha ottenuto un risultato positivo. Sentiamo. Dopo tre ore di seduta, governo e maggioranza portano a casa l'articolo 1 della riforma delle province che prevede l'istituzione dei liberi consorsi in sostituzione delle attuali nuove province. Si tratta della norma cornice della riforma. Funzioni e possibilità di creare nuovi consorsi con limiti di popolazione sono contenuti negli altri articoli del testo in discussione in aula. Governo e maggioranza finora hanno retto alla strategia delle opposizioni che su ogni subemendamento hanno chiesto e ottenuto il voto segreto. Scogli superati dopo lo scivolone di due giorni fa sulle modalità di istituzione delle città metropolitane. Avanti quindi con la riforma delle province e poi a legge approvata entro sei mesi con il nuovo disegno di legge sulle competenze dei liberi consorsi. Governo e maggioranza disciplineranno le città metropolitane, la cui istituzione è prevista dall'articolo 7 del testo in discussione nella parte cassata due giorni fa con il subemendamento di Forza Italia. Questo quanto emerge al termine del vertice convocato dal governatore Crocetta con i capigruppo della maggioranza. Abbiamo condiviso l'esigenza che la maggioranza sia più compatta e coesa. Ha detto il capogruppo dei democratici riformisti siciliani Giuseppe Picciolo. Non è cambiato nulla nonostante il voto di due giorni fa. Crocetta è sereno e motivato. Dopo il vertice a Palazzo d'Orleagno il capigruppo della maggioranza riunirà i propri deputati prima della ripresa dei lavori parlamentari. L'esigenza è serrare le fila e portare a casa la riforma, ha detto il capogruppo dell'Udc Calogero Firetto nel nostro partito. Non ci sono problemi politici. Dopo aver dato spazio anche alle donne con l'istituzione dell'Equoterosa, alla cui guida è stata posta la giovane Lavina Napoli, continua il processo di radicamento sul territorio del club Forza Silvio di Canigattina. I giorni scorsi sono stati ratificati due nuovi ingressi all'interno del Consiglio Direttivo del Movimento che si rifà le posizioni di Forza Italia. Si tratta di Angelo Bellia, nominato responsabile del settore geologia, prevenzione del rischio idrogeologico, territorio e ambiente. Luigi Lotato che andrà ad occuparsi invece del settore viabilità, infrastrutture e lavori pubblici. Sulla visita del commissario ad interim dell'aspede agrigento Giuseppe Termine all'ospedale di Canigattina, visita avvenuta due giorni fa. Abbiamo sentito questa mattina il dottore Antonio Cani del Partito Democratico di Canigattina. Sentiamo. Dottore Cani, quali possono essere, anche alla luce della visita di qualche giorno fa del commissario dell'aspedale agrigento Termine, gli scenari per l'ospedale di Canigattina? Noi ringraziamo il commissario Termine di averci fatto questa gradita visita, proprio perché in quell'occasione la logica era quella di parlare di cosa fare per l'ospedale di Canigattina. Credo che alcune cose sono state dette, molto chiaramente. perché? Perché l'ospedale di Canigattina è un presidio che va attenzionato. Noi come Partito Democratico abbiamo chiesto questo incontro, l'abbiamo fatto. Abbiamo pensato che potesse essere un momento di riflessione, non un momento di passarella, come qualcuno dice, perché in qualsiasi caso noi pensiamo che dobbiamo lavorare per Canigattina. Se riusciamo a lavorare per Canigattina senza ideologismi, senza contrapposizione, sarebbe forse la cosa migliore. Ma alcune cose bisogna dirle molto chiaramente. In quell'occasione il dottore Termine fa un ragionamento molto semplice. Nella rimodulazione degli ospedali, quindi parla degli ospedali riuniti, è ovvio che i due ospedali devono collaborare. Perché altrimenti la logica non va avanti, visto che la logica è far funzionare al meglio quello che c'è, l'esistente. Però una cosa credo che sia stata detta, perché quando il dottore Termine parla di vasi comunicanti, parla di cose molto semplici. Nel senso che se ci sono strutture dove a Canigattina c'è un numero eccessivo di personale, è giusto che qualcuno si sposti su Licata. E viceversa. Se alcune, per quanto riguarda il personale, per quanto riguarda c'è di più a Licata, si sposti su Canigatti. Questo credo che sia la logica di come affrontare il problema sanitario. Lo dico perché? Perché nella pianta organica della rimodulazione degli ospedali che è stata presentata alla sesta commissione, che è stata poi ritirata, è bene che sappiamo le cose, quella non c'è più, deve essere rimodulata di nuovo. Non è concepibile e non si capisce bene perché Licata, che ha un pagino di utenza di 30.000-40.000 abitanti a fronte di Canigattina, che ce n'ha 120 sulla carta, ma 140 con Delia, Sommatino ed altre città viciniori, non si capisce bene perché Licata ha più posti letto di Canigattina. 139 a fronte di 161. Qualche cosa non funziona, non si capisce bene perché la medicina diminuisce posti letto, non si capisce bene perché l'ottima chirurgia diminuisce di posti letto, è così dicendo. Il problema è razionalizzare tutto questo che abbiamo. Non è solo la questione della rimodulazione, che credo che dovremmo batterci e continuare a batterci perché la rimodulazione venga a Canigattì, ma il problema è come questo ospedale riesca a dare eccellenze e credo che ci sono tutti i presupposti. La venuta di direttore Termine, questo è servito. Dopodiché è ovvio che noi facciamo politica con le cose che riteniamo che siano utili per la cittadinanza, dall'acqua pubblica con il nostro ottimo consigliere comunale Antonio Maira, alla sanità, all'agricoltura, all'area artigianale. Questo per noi è quello che proponiamo alla città di Canigattì. Per noi questo è il modo giusto di fare politica. Dice l'incaricato primo ministro Renzi che nella politica può essere anche un fatto bello, è fatto per fare le cose che ci interessano a tutti. Non è fatto solo per fare una breve clientele oppure per spostare gli infermiere dall'ospedale di Canigattì al territorio e viceversa. Questo credo che sia un danno per l'ospedale e dunque lavoriamo tutti assieme perché l'ospedale di Canigattì possa funzionare al meglio, possa funzionare e dare i servizi che questa città si merita perché tutti sappiamo che l'ospedale di Canigattì ma anche per detta di chi era presente in quell'incontro sia del direttore sanitario attuale che il direttore amministrativo del direttore Termine. Questo è un ospedale che lavora e lavora molto bene. È ovvio che bisogna ottimizzare e portare al massimo tutto ciò il personale medico e paramedico che all'interno dell'ospedale opera. C'è di cambiare ovviamente qualche struttura ma noi saremo molto attenti affinché abbiamo un'opportunità con il dottore Termine. Il dottore Termine è un tecnico, è uno che fa il primario al cervello, non è un politico di professione, è uno che fa il primario e conosce molto bene la realtà degli ospedali. Approfittiamo di questa opportunità per quanto ci è consentito per poter dare risposte alla cittadinanza di Canigattì. E in merito a questi ultimi giorni caldi sul tema della sanità canigattinese c'è stato l'intervento anche del rappresentante del Comitato Civico Pro Ospedale, Salvatore Castellano. Quali sono i segnali che avete colto voi come Comitato Civico Pro Ospedale dalle due visite che ci sono state nei giorni scorsi presso la struttura canigattinese del deputato regionale Calogero Fioretti e del commissario ad interim dell'Aspede Agrigento Giuseppe Termine. Intanto bisogna chiarire un fatto che grazie a questa emettente e grazie alla disponibilità del Comitato Civico Pro Ospedale abbiamo messo il dito in una piaga che è quella di vedere soccombere questa struttura ospedaliera per colpa purtroppo degli amministratori della ASLE che si sono succeduti nel tempo. Ecco, grazie un po' a tutta questa battaglia che abbiamo fatto questi signori stanno cercando un po' di venire a Canigattie e vedere che cosa sta succedendo effettivamente a Canigattie. La visita dell'onorevole Diretto. Beh, io pur non essendo invitato mi sono presentato lì e ho chiesto all'onorevole Fioretti con cui abbiamo un rapporto di amicizia al di là delle appartenenze politiche io non faccio politica per nessuno lui è rappresentante dell'Udc e gli ho detto lei perché è venuto qui a Canigattie io sono venuto perché è invitato dal direttore sanitario e vedere un po' qual è la situazione faccio parte della commissione sanità a livello regionale e vediamo un po' che cosa si può fare ecco, io devo dare un mio giudizio devo dire che questi signori vengono soltanto per farsi un po' di propaganda politica con i medici, con qualche infermiere ma non per interessarsi dei veri problemi che riguardano l'ospedale di Canigattie il direttore sanitario dell'Aspi dottore Termini anche lì io mi sono presentato però questa volta devo dire che mi ha invitato il dottore Antonio Cani e alla fine dopo aver sentito i motivi di questa sua presenza a Canigattie io ho detto purtroppo non sono d'accordo sulle cose che lui ha detto non sono d'accordo in che senso lui ha detto che bisogna premiare gli ospedali che lavorano bisogna premiare gli ospedali che sono al centro di un grosso comprensorio bisogna premiare i medici che affrontano quella che è la realtà con impegno realtà sanitaria dei bisogni della gente con un certo impegno e poi mi dice e beh quando gli si chiede la rianimazione si aprirà Canigattie non è possibile perché già c'è c'è agrigento e c'è sciac io allora vorrei capire una cosa se Canigattie è al centro di questo grosso comprensorio se a Canigattie si lavora e si lavora bene se c'è un impegno da parte dei medici a mandare avanti un po' i servizi di questa struttura nonostante nel tempo è stata penalizzata sempre perché non aprire allora la rianimazione a Canigattie perché aprire la licata e non a Canigattie quando a Canigattie abbiamo tutti i requisiti ci sono tutti i requisiti per poter aprire la rianimazione abbiamo la pista dell'elisoccorso abbiamo un reparto già attrezzato e verrebbe ad aprirsi a costo zero e lì casca l'asino Canigattie aprire la rianimazione all'azienda non costa niente anzi risparmerebbe le spese per l'elisoccorso ma lo sapete quanti voli fa l'elisoccorso da Canigattie per portare gli ammalati in altre strutture ospedaliere e quanto risparmierebbe e allora mi chiedo dottore Ter io mi auguro che non possa fare veramente la fine dei suoi predecessori che erano a disposizione di una certa classe politica e di qualche funzionario della sanità io mi auguro che si affronti assieme a noi assieme ai medici questa situazione in termini seri perché non ne possiamo più se così non è ognuno si assume la propria responsabilità domani e concludo arriverà l'onorevole Fontana con cui già abbiamo avuto un 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 piccolo abboccamento sulla situazione di Canigattie e lui è venuto verrà per vedere un po' effettivamente come stanno le cose Fontana è vicepresidente della commissione sanità io mi auguro che questa volta la sua presenza possa veramente far luce su questa situazione che si è creata e dare veramente i giusti valori a questa nostra struttura l'obiettivo di questa amministrazione è stato quello di sanare la situazione finanziaria del comune di Delia in questi mesi ci siamo trovati di fronte a una serie di atti ingiuntivi e pignoramenti da parte di vari creditori purtroppo non abbiamo avuto alcuna possibilità per poterci opporre a nessuno dei provvedimenti che ci sono stati notificati in questi mesi perché erano divenuti ormai esecutivi e questo quanto ha dichiarato il sindaco di Delia Gianfilippo Bancheri che ha fatto affiggere in questi giorni alcuni manifesti pubblici e locandine per informare i cittadini della grave situazione economico-finanziaria che l'amministrazione comunale ha dovuto fronteggiare un atto di responsabilità dovuto nei confronti dei cittadini ha detto Bancheri dire la verità è un dovere di ogni sindaco e un diritto di ogni cittadino per me è stato difficile affrontare una situazione che tra l'altro non avevo né creato né voluto con la crisi economica aumentano i poveri ma continuano a diminuire drasticamente i fondi pubblici per aiutarli con tagli progressivi talmente pesanti da indurre il comune di Gella a rinunciare ad uno dei contributi regionali quello della locazione perché ridotto ad un livello misero inaccettabile per far fronte alle richieste delle 174 famiglie gelesi aventi diritto al contributo sull'affitto di casa la regione dopo aver applicato la sua spending review ha accreditato al comune di Gella appena 4 mila euro cioè l'1,2% del reale fabbisogno che corrisponde a 335 mila euro se in questo momento dovessimo tenere conto del contributo regionale ha detto l'assessorio comunale ai servizi sociali di Gelo potremmo erogare da un massimo di 45 euro annui per le situazioni più difficili fine ad un minimo di 39 centesimi per i casi più indigenti cifre che potrebbero apparire una vera e propria provocazione per famiglie bisognose senza casa e spesso senza lavoro si terrà domani al teatro sociale di Canicattì il musical La Fontana di Brualino nell'ambito della rassegna teatrale promossa dall'amministrazione comunale a proporre lo spettacolo sono i cantori Sinsule sentiamo Torna domani la rassegna teatrale promossa dall'amministrazione comunale con uno spettacolo musical dei cantori Sinsule e al teatro sociale Sì ormai siamo quasi alla fine della nostra stagione e come appunto ha ben detto domani abbiamo i cantori Sinsule al teatro sociale alle 20 e 30 con lo spettacolo il musical sulla Fontana di Brualino il costo del biglietto è 5 euro si può acquistare a Palazzo Stella o direttamente al botteghino del teatro quindi faccio un appello ai cittadini a venire a vedere questo musical che parla della nostra città della storia della nostra piccola cittadina un'opera sicuramente interessante e di alto livello Ecco come giudica e se è possibile farlo a questo punto un bilancio ecco della stagione teatrale promossa dal Comune La stagione ha avuto i suoi alti e bassi devo essere sincera quindi ci sono stati spettacoli dove la presenza è stata più massiccia e spettacoli dove la presenza è stata meno massiccia sicuramente non si possono dare colpe a nessuno neanche a noi stessi speriamo che però questo spettacolo sia ben accettato e ben gradito dalla nostra cittadinanza Quello che sarà portato in scena domani è uno spettacolo che contiene importanti elementi anche da un punto di vista storico un motivo in più forse questo per che i cittadini vengano ad assistere appunto al musical E' interessante questo spettacolo proprio per i canicantinesi perché riguarda un monumento molto importante nella storia nell'architettura canicatinese quale la fondana di Brualino conosciuta appunto come la fondana di Brualino che si trovava in piazza Roma fatta edificare ai primi del secento dal duca Giacomo Bonanno Colonna e poi fatta abbattere da un'amministrazione senza scrupoli nei primi anni susseguenti al secondo dopo guerra perché malodorante quindi disturbava per certi versi anche i vicini E' importante questo spettacolo non solo perché riguarda la fondana di Brualino quindi è qualcosa di nostro prettamente canicatinese ma anche e soprattutto perché fa rivivere determinate scene determinate realtà che purtroppo oggi non esistono più oggi viviamo una cultura dedita all'alienazione quella era invece una cultura basata una società basata appunto sulla partecipazione pubblica per le strade ed è la fontana che si fa spettatrice di tutta la vita che la circonda e vedremo rivivere alcuni personaggi mitici per certi versi della nostra città quale per esempio Tanuggia che molti di voi ricorderanno ma anche è importante perché si dà il lustro e si dà anche visibilità ad un grande poeta canicatinese che purtroppo non tutti conoscono e che è venuto a mancare circa un anno fa Peppe Leone sono presenti due poesie sue all'interno dello spettacolo quanto lavoro c'è dietro questo spettacolo che appunto come detto si terrà domani c'è un lavoro sostanzioso circa un anno e mezzo di lavoro tra la creazione di tutte le basi musicali e quindi e del disco che accompagna poi diciamo tutto il musical che ha impegnato i cantori e sindole per circa un anno e ha visto ovviamente il lavoro molto importante di Giochino di Bella e di tutti gli altri componenti dei cantori e sindole ma anche c'è un grande lavoro da un punto di vista teatrale e da un punto di vista coreografico e da un punto di vista anche di scenografia che vale la pena vedere perché molto molto bella e convacente allo spettacolo Laici gioiosi alla sequela cosciente di Cristo l'azione cattolica al servizio dell'uomo e della Chiesa e questo è il tema che verrà sviluppato in occasione della quindicesima Assemblea Dio Cesana di azione cattolica in programma sabato e domenica prossimi a San Leone in un noto hotel alla quale parteciperanno i delegati delle 42 associazioni parrocchiali presenti nella diocesi di Agrigento all'assemblea che sarà preseduta dal presidente diocesano Massimo Muratore parteciperà la delegata nazionale Maria Grazia Vergari ospite sarà la scrittrice Simonetta Agnello Orbi con questa notizia si chiude l'edizione di oggi del nostro telegiornale grazie per l'attenzione e vi diamo l'appuntamento alle prossime edizioni arrivederci grazie per la visione